Sono due i processi scaturiti dall'operazione The Wall, quella che un anno fa culminò con 12 arresti, 8 palermitani e 4 belicini, eseguiti dai carabinieri dopo aver scoperto i componenti di una presunta banda del buco dedita alle rapine in banca nel territorio compreso tra Santa Margherita, Sambuca e Menfi. Ieri al Tribunale di Sciacca si è aperto il primo procedimento con rito ordinario, quello che vede alla sbarra 5 imputati, si tratta dei palermitani Vito Leale, Pietro Madonia e Michele Cirincione, del margheritese Rocco D'Aloisio e del montevaghese Francesco Napoli. Quest'ultimo è finito nell'indagine qualche tempo dopo l'operazione di polizia giudiziaria dello scorso anno ed è accusato di ricettazione di un'auto. Il Tribunale ha acquisito agli atti la intercettazione e depositato alle liste dei testimoni di accusa e difesa. La prossima audienza si terrà il 16 novembre. Gli altri soggetti coinvolti nell'indagine invece hanno chiesto di essere giudicati con rito abbreviato. Tra di loro c'è anche Salvatore Palazzolo, trentenne palermitano, che deve rispondere dell'accuso di favoreggiamento. Alla sbarra con l'abbreviato gli altri palermitani Pietro Laplaca, Francesco Conigliaro, Pietro Valpa, Paolo Valpa e Ignazio Lamanna e i Sambucesi, Michele Maria Gandolfo, Massimo Tarantino e Pietro Curti. Cinque in tutto gli episodi ai quali gli investigatori sono riusciti a risalire e dei quali ritengono responsabili a vario titolo gli imputati. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i palermitani organizzavano i colpi con l'aiuto di una rete di basisti, tutti del luogo. Tra di loro ci sarebbe stato anche il bancario, Michele Gandolfo. La prima rapina oggetto d'indagine è del 1 giugno 2012 nel Mirino, la filiale della banca intesa San Paolo di Santa Margherita, istituto di credito di cui era dipendente proprio Gandolfo. Bottino di quella rapina, 100 mila euro. Stessa cifra incassata dai malviventi in una seconda rapina, quella alla banca di credito cooperativo di Sambuca, risalente all'8 agosto dello stesso anno. Negli altri tre casi, l'ultimo episodio risale al 29 novembre del 2013, i colpi organizzati non andarono a segno. Secondo l'accusa, la banda in almeno due case avrebbe praticato nottetempo dei fori sulle pareti degli istituti di credito finiti nel mirino, fori occultati per poi poter accedere all'interno delle banche il giorno dopo, a sorpresa, per effettuare le rapine. Ma non è tutto. Nel corso delle numerose perquisizioni effettuate, i carabinieri del nucleo radiomobile avevano addirittura trovato le chiavi di accesso originale di una delle banche finite nel mirino dei rapinatori. I colpi venivano organizzati tentando di contenere rischi legati alla possibile identificazione da parte delle forze dell'ordine, ma al culmine di mirate scrupolosi sopralluoghi che venivano eseguiti presso i vari istituti di credito con cadenza addirittura settimanale. Accortezze d'attenzione, elementi riscontrati dagli stessi carabinieri nei confronti del gruppo criminale che esaminava in modo quasi maniacale possibili complicanze sulle vie di accesso e di fuga dopo le rapine, accortezze e attenzione che però evidentemente non furono sufficienti. Tarantino, Pietro Laplaca e Francesco Conigliaro dovranno rispondere anche di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine in banca.